Con l'insediamento del commissario prefettizio Domenico Bagnato è nato il nuovo comune di Corigliano Rossano che con i suoi 78.000 abitanti diventa il terzo per popolazione della Calabria dopo Reggio e Catanzaro. La nascita del nuovo comune è stata sancita con la vittoria del SIA, referendum sulla fusione dei due comuni svoltosi il 22 ottobre scorso. Il prefetto Bagnato gestirà il comune unificato fino alle elezioni amministrative del 2019. Nel suo primo giorno di lavoro Bagnato ha avuto un incontro con tutti i dirigenti per esaminare la situazione nei due comuni ed avviare la risoluzione di tutte le criticità presenti. La volontà dei due sindaci, Giuseppe Geraci per Corigliano e Stefano Mascaro per Rossano, ha detto Bagnato, e dei funzionari è di far fronte comune per arrivare nel modo migliore possibile all'unificazione del personale e dei servizi che il nuovo comune dovrà rendere alla cittadinanza.